vado a raccontare e ogni volta questi racconti sono da me così latamente organizzati mentre guido mentre faccio il caffè mentre faccio delle attività che non sono propriamente legate a quel tipo di pensamento quindi non so quando vado poi a riversarmi depositarmi come una soluzione che precipita all'interno di un liquido quale sia il precipitato quindi vediamo quale sarà questo precipitato di cosa voglio parlare è un video così che ha un andamento teologico perché ha un andamento teologico qual è l'elemento così teologale che vado oggi ad affrontare il tema della trinità che io non trovo affatto misterioso che forse una cultura di tipo maschilista c'è un cattolicesimo un cristianesimo fatto preda di maschi di fallologocentrismo ovviamente in qualche modo va a coprire a mascherare a rendere la trinità un mistero mentre invece io trovo che è una lettura di tipo così non maschilistica non legata all'universo fallologocentrico che purtroppo spesso si è fatto come dire garante della sensatezza delle anche proposizioni dogmatiche della chiesa invece non c'è alcun dogma direi la chiamavano trinità chi è possibile identificare come concreta vivente trinità ovviamente la madonna perché la madonna è diciamo la dimensione viva vitale biotica della trinità è essa stessa cioè una etrina in che misura è una etrina perché ovviamente accoglie il padre accoglie il padre nella forma dello spirito e quindi non essendo il padre che abstractum dio è un'astrazione che si manifesta in spirito dentro di lei quindi in lei è presente il padre e anche diciamo manifestato conformato fatto spirito e fecondante appunto la madonna medesima che così contiene ed è essa stessa il figlio infatti qui il tema è sul contenere la madre non è affatto un contenitore non è affatto un vascello la madre è anche il figlio cioè meglio il figlio non è che una parte un elemento della madre finché il bambino non esce dalla madre e questo per tutte le madri ovviamente il bambino è esso stesso esso stesso la madre perché non ha possibilità di vita ulteriore alla madre finché sta dentro di lei è lei che ne garantisce che ne è la vita cioè non va affatta una distinzione non c'è un diadismo c'è un flusso continuo fra queste realtà che non sono eppure veramente così distinguibili cioè nel momento in cui parte il concepimento o l'ovulo inizia a trasformarsi grazie alla fecondazione quella evoluzione quella trasformazione è garantita dalla madre è la madre medesima non c'è possibilità di distinguere quindi il figlio la figlia sono la madre diventano altro dalla madre altra dalla madre come ne escono fuori ma finché diciamo vivono grazie alla madre per la madre attraverso con la madre intramati intessuti cointessuti alla vita della madre neppure distinguibili cioè sono ovviamente sono ovviamente la madre stessa quindi anche teologicamente la madre è il figlio cioè il figlio non può essere altro che la madre quindi la madonna è ovviamente una etrina perché al contempo il padre astratto la sua presenza in spirito fecondante e poi è il figlio medesimo che lei tiene anzi il figlio è in quanto la madre è e non potrebbe essere se la madre non fosse quindi il figlio non si dà senza la madre questo è un mistero totale c'è finora finora non c'è stato modo di far crescere bambine e bambini fuori dal corpo di una madre ecco sì ci sono le fasi finali ma in realtà cioè nella normale convenzionale più diffusa svolgimento svolgibilità della gravidanza il bambino non può che essere una parte un elemento della madre non ha una sua identità aliena alla madre è esso stesso è con sostanziato e con sostanziale alla madre che però lo eccede cioè la madre può vivere senza il figlio la figlia mentre invece la bambina il bambino non hanno modo di vivere senza la madre quindi la madre è chiaramente anche questa parte di sé parlerei addirittura di un organo che a un certo punto un sensorium è una occasione di crescita della madre è una sporazione germinazione consustanziale alla madre che progressivamente si va rendendo anche all'interno qualcosa che può farsi autonoma fino a quando non esce non c'è questa autonomia perché il bambino è ancora la madre medesima quindi problema della trinità rapidamente risolto anche nel caso appunto della vita di Gesù cioè questa madonna che è anche Gesù poi lui assume una sua autonomia ma poi con la morte precipita ricade si va a deporre depositare di nuovo sulla madre e la madre che poi anche l'immagine della madre è pronta nuovamente ad accoglierlo quindi la madre precede il figlio è anche il figlio perché senza di lei il figlio non ha possibilità di vita altra se non nel momento in cui si è conformato e predisposto ad avere autonomia per vivere fuori per vivere oltre come altra o altro dalla madre e poi con la morte c'è questo ritornare sul ventre sul corpo della madre farsi riaccogliere quindi un riprecipitare un riconfo nella deposizione c'è diciamo anche tutta la forza ctonia di maria maria come terra che riaccoglie ma anche come c'è celeste possibilità di resurrezione quindi è come dire risolto per me quello che è un dogma non c'è dogma è la donna in quanto tale essa stessa sempre trinità perché sempre il padre è astratto è sempre presente questo spirito questo conatus di movimento che come dire da modo all'ovulo di farsi cointessuto alla madre finché nel processo di trasformazione assume un fuoriuscendo una persona che non è più come dire effiorescenza della madre e consustanziato durante la gravidanza alla madre stessa questo per dire che anche le pratiche di utero in affitto io le trovo assolutamente tristi perché la maternità è proprio questa confusione fra quello che forse uscendo sarà qualcosa di altro e e e e la madre cioè quindi il figlio è sempre la madre non c'è possibilità di distunzione di distinzione veruna sì gli scienziati hanno inventato naturalmente degli strumenti delle sonde per testimoniare questa alterità ma quella crescita è garantita ed è possibile solo in virtù di una fusione biotica biotica fra madre e questa parte che la madre produce quale spora di sé quale organolo che si va latamente progressivamente rendendo autonomo fino alla fuoriuscita e alla visione davvero a quel punto di qualcosa di altro di separato almeno apparentemente non certo psicologicamente dalla madre legame psicologico la madre è si sa straordinario e la letteratura e la tragedia ne sono pieni no basta pensare ai tipo a come poi la psicologia ed il maschio soprattutto che non ha modo no di gestare come dire si tenga legato non c'è non c'è un nulla per da cui si fuoriesce si fuoriesce dalla madre non c'è un nulla a cui si ritorna siamo riaccolti dalla madre in questo caso dalla terra è la terra che si fa come dire garante come visione visione dell'actonicità certo sensatamente le femministe come anche la victi dicevano ma non ce ne frega niente della maternità e questo lo può dire una donna che si può liberare anche del proprio potenziale generativo dire non mi interessa niente un uomo non può farlo perché questa possibilità non ce l'ha quindi da una parte manifesterei il tema del genere chiunque può decidere di manifestarsi di genere maschile o femminile sicuramente però ci sono più problemi su quello che è l'aspetto diciamo biologico del sesso cioè il non portatore d'utero non può necessariamente essere gestante allora se la madre il figlio anche l'aborto è una questione che non può che decidere la madre perché decide non di un'altra creatura vivente dentro di lei non c'è questa separazione decide di una parte di sé decide di una parte di sé di qualcosa che le ecco in tessuto e che è assoluta responsabilità sua e di nessun altro perché come io sono responsabile di una mia mano di un mio polmone così la madre durante la gravidanza è responsabile di questa sporazione che non è altro da lei è chiaro questo deve essere assolutamente chiaro assolutamente chiaro perché altrimenti c'è un grosso fraintendimento che è tutto come dire strutturato sostenuto da un approccio fallologo centrico che vede non la la donna come produttrice di vita ma come un semplice strumento come un portale non c'è portalità non c'è strumentalità la donna si spora si come dire si fa anche altro da sé perché queste sono le sue possibilità possibilità naturalmente negate a chi ha un sesso maschile cioè non c'è questa possibilità no di fare di se stessi altra vita di germinare come germina una pianta come una pianta fa i frutti ecco il frutto a un certo punto si stacca dalla pianta ma finché sulla pianta non è altro dalla pianta è chiaro questo è una trasformazione una mutazione che la pianta attua è una manifestazione di sé così come lo è il figlio non c'è una separatezza una dualità poi però siccome se ne può staccare allora a quel punto possiamo nominare nomina su un tererum ciò che si stacca con un nome che lo rende altra cosa altra persona dalla madre cosa volevo ancora dire perché poi mi perdo in queste così considerazioni che quindi è solo grazie al fallo logocentrismo se noi pensiamo ad una cosa orribile che porta all'idea di affittare non c'è un utero in affitto c'è la produzione di sé e la vendita di una parte di sé non interessa qui da chi arriva l'ovulo da chi arrivi lo sperma ma c'è questa gestanza che fa del corpo una affioranza germinazione boccio come volete dire c'è una metamorfosi di una parte del corpo che non esisterebbe se diciamo la pianta madre non nutrisse non alimentasse non sostenesse con l'ossigeno non sostenesse in un amnios che è essa stessa cioè l'amnios è cosa sua è la placenta è cosa sua è parte così come parte di lei questa creatura che non è altra da lei è una sua manifestazione quindi è orribile però se lo si vuol fare allora si accetti anche che io possa decidere di vendere un polmone posso dare un polmone ecco posso dare allora tutto possiamo dare di noi fare di tutto mercato così come fare mercato di una parte che viene prodotta dal corpo fare mercato anche di parti del corpo cioè mentre e si sta in gestazione non si può pensare a io almeno trovo che questa sia oggetto di lucro però siccome il capitalismo tutto concede allora anche vendiamo i polmoni anche vendiamo le corne mentre siamo in vita anche parti di fegato tutto ciò che è asportabile da un corpo in vendita perché se io vendo perché ho bisogno di soldi perché non posso liberamente anche vendere un polmone ovviamente io sono contro ogni sorta di vendita a me l'utero in affitto mi disdice ci sono così tanti bambini soli privi di un percorso educativo perché poi la dimensione culturale è quella che fa del liber appunto libro cioè è la fusione fra liber figlio e libro la conduzione di sé come genitore come maestra e maestro di vita e soprattutto come ambiente affettivo in cui questo altro separato dalla ormai fuori sporato dalla madre può acquistare una nuova amnioticità che è quella affettiva allora questo amnios affettivo può naturalmente essere garantito attraverso e soprattutto l'adozione anzi tutti i figli alla fine anche quelli naturali cioè quelli che hanno la madre che lo gesta o il padre che ne è diciamo l'inseminatore devono essere adottati è una pratica culturale non è spontanea la condizione di accettazione affettiva dei figli quante donne hanno sofferto perché convenzionalmente il fallo logocentrismo voleva che la madre una volta che avesse partorito dovesse accettare i figli ma no è un processo di educazione culturale emotiva che fa accogliere il figlio quindi per esempio penso alla merini che fa questi figli e poi ha difficoltà e questa difficoltà che è normale ci sia soprattutto per persone sensibili avrebbe dovuto essere accolta sostenuta invece no il fallo logocentrismo come dire stigmatizza dice no doveva essere conseguenziale che come partorisci devi amare no l'amore è qualcosa il sentire è qualcosa a cui si deve essere educati qualcosa che va costruito non è assolutamente spontaneo non c'è nessuna spontaneità in questo ma c'è un fondo di educazione sentimentale a sé come figura materna paterna che poi si manifestano amniosaffettivo per i figli quindi ogni figlio è in realtà adottato dalla propria famiglia dai propri genitori quindi che senso ha che io voglia proprio il mio tracciamento genomatico incunearlo in un ovulo che poi andrò a inserire in un utero che lo terrà c'è una dimensione così feroce così legata alla dimensione propriamente maschile dell'approccio al sapere quello analitico divisorio frazionatorio quello tagliante quello settorio ecco siamo di fronte alla notomizzazione cioè alla vivisezione nonché alla cadaverica distruzione delle emozioni e dei sentimenti in questo caso mentre invece ci sono tante bambine e tanti bambini che perduti i genitori naturali coloro che li hanno sporati avrebbero bisogno fondamentale di un amnios affettivo che gli accogliesse allora che senso ha? cioè chiedere che siano proprio i propri stessi geni a rappresentare il tema della filiazione quando diciamo la parte naturale è la gravidanza che è determinante e quindi offrire a qualcuno di farsi in un percorso o altro con un qualcosa che esso stesso mantiene in vita cointessendoci e poi dire no adesso tipo è orrorifico quanto è orrorifico vendere un polmone almeno questo io penso e quindi questo è il tema anche tornando alla regione della Trinità la madre non può che essere anche l'astratto padre lo Spirito Santo che la feconda e il figlio stesso quindi la Madonna è chiaramente la Trinità incarnata è la risoluzione biologica del dogma della Trinità e che poi torna ad accogliere il figlio che gli si deposita addosso e lei che in qualche modo è l'apertura al riassorbimento nella terra e alla come dire sospensione verso il cielo e quindi la riapertura resurrettizia del corpo medesimo insomma vabbè è anche sarcofago finale sarcofago e apertura e lancio verso il risorgere e quindi poi definitivamente all'ascendere alla liberazione celestiale quindi in realtà io trovo che la Madonna sia molto più rilevante anche di Dio perché è essa stessa Dio è Dio nella sua triplice manifestazione padre astratto e Spirito Santo figlio che lei stessa è nel momento in cui lo alimenta ne tiene in vibrazione la vita e alla fine appunto è essa stessa divinità che si fa trinitaria quindi Dio non può che essere anche madre anzi è soprattutto madre e madonna